ragazzi quasi telecamera quindi come ci muoviamo? vogliamo prendere subito? io direi quanti siamo thank you no no allungarlo ti prego chissà se l'hanno sentito il cane mi ha spattato l'orecchio dai dai veloci che correranno anche loro sì vai che loro corrono grazie No, no, no. forse quello dell'hq è down ok non ce n'è più a posto vaffanculo a te erano l'uscita del tunnel non è salito sopra come ti ha già fatto da dove non lo so ha fatto il giro tutto da dietro ne ha tirate giù parecchi anche ma qualcuno aveva detto ho pulito pulito un cazzo vero quella pulito finestra 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 sotto il canale principale adesso non lo vedo più non vedo i tango se arrivano da sinistra non li vedo mai vedo un tango in fondo al tunnel penso di averlo mancato di pelo ho preso tunnel centrale grosso e non vorrei che facessero il giro qui a sinistra davanti dietro il gabbiotto angolo angolo occhio eh preso cazzo è ancora lì dovrei averlo preso l'ho visto si spostati ma non ho capito dove si entra per andare su in casa non so appena lì appena passi l'angolo cioè la porta che va su tu vuoi puoi provarci provaci occhio a voi che rischi magari dall'alto riesci anche a vederlo eccolo attenzione tango down è Ale il muro il muro l'ho preso l'ho preso era solo Ale era solo Ale lo so se non è merda e non ho neanche la ghilli finita finita fine? sì stiamo andando a cercare eh ma non passi qua